Dottoressa Nadia Storti da luglio è direttore generale dell'azienda sanitaria territoriale di Peso Rubino che in realtà sta trovando anche alla luce della fase di trasformazione che sta vivendo sia la struttura che di fatto è nuova di questo 2023 sia il fatto che ci troviamo in una provincia che dovrà convivere con diversi traslochi diverse trasformazioni di nuovi spazi ospedalieri. Allora ho trovato un sistema sanitario molto all'avanguardia e molto sviluppato. È chiaro che qui si tratta di mettere insieme due realtà completamente diverse un'azienda ospedaliera centralizzata prevalentemente sulla terapia dell'acuzia e un'azienda territoriale dove invece era più orientata sulle piccole patologie e sulle parti di prevenzione, di salute mentale e delle tossicodipendenze. Ora dobbiamo mettere insieme questi due sistemi. Credo che sia un miglioramento per tutti perché contaminarsi tra quello che è la parte ospedaliere e la parte territoriale è un beneficio di cui ne trarranno sia i professionisti che naturalmente la popolazione. C'è molto da fare ma ho trovato una grande disponibilità da parte dei medici di tutto il personale infermeristico, compreso la parte amministrativa che sembra in secondo piano in realtà quella che deve fondersi ancora di più rispetto all'istruttore ospedaliere. Ci sono grossi progetti, palazzine nuove degli ospedali, un ospedale nuovo da realizzare, trasferimenti da fare. Io come mia abitudine intanto non conosco perfettamente la realtà pesarese perché ho girato tutta la regione Marche, mi mancava la provincia di Pesaro e sono contenta di conoscere anche questa meravigliosa provincia dove si vive molto bene tra l'altro. Quindi la prima cosa è quello di studiare la situazione. Sto facendo una serie di incontri tecnici, soprattutto con i professionisti perché io ritengo che nessun direttore sia così illuminato da poter prendere decisioni da sole. Le mie decisioni saranno condivise con tutti gli operatori e quindi sono nella fase di studio. Parto dai dati di fabbisogno di sanità della popolazione, dai dati di attività, da quelle che sono le caratteristiche delle strutture e spero nel giro di poco tempo di avere un quadro preciso per poter prendere poi delle decisioni. In questo momento non sono state prese perché vanno valutate attentamente, perché qualsiasi decisione può essere corretta, può essere sbagliata e quindi cerchiamo di fare i meno errori possibili. C'è poi questa fase sempre più impellente della ricerca di nuovi spazi alla luce del trasferimento dell'ospedale di Muraglia che vi vede lavorare a braccetto con la Regione Marche. Come sta andando da questo punto di vista la ricerca di nuovi spazi? Sta andando bene perché la procedura di gara, della quale naturalmente io conoscerò gli esiti solamente alla fine, la procedura di gara sta andando avanti, abbiamo delle risposte, stiamo analizzando il meglio e credo che siamo in grado di rispettare i tempi previsti. L'indirizzo è quello di trovare la soluzione meno impattante sia per i bisogni dei medici che per quello dei pazienti? Esatto.